Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Flicky38, oggi siamo qui in un nuovissimo video con Bootboy Siamo qua in questo nuovissimo video, ci vedete senza maietta perché questa qua è la Sputo Challenge, come la chiamano io Il challenge consiste che il primo che ride sputa addosso la Coca-Cola che hai in bocca all'altro, non farlo opposto perché ti faccio male Non l'ho fatto, non l'ho fatto Con i capelli no Siamo a 2 su 2 Ragazzi direi che per questo video può essere tutto, vi lascia non mai volete, seguite i miei segnali proprio di Instagram e noi ci vediamo alla prossima Bene ragazzi, ciao